Che l'approvazione del bilancio di previsione della legge di stabilità del documento di programmazione economica e finanziaria non sarà una passeggiata lo si è capito ancora prima dell'inizio della fattidica seduta del Consiglio regionale di oggi con i consiglieri del Movimento 5 Stelle che hanno occupato gli scranni della Giunta e appeso cartelli che riassumono le ragioni del loro profondo dissenso. Sì, noi non possiamo assolutamente tollerare che il Consiglio sia esautorato nelle sue prerogative, non abbiamo al momento altro mezzo per contrastare scelte che non ci sembrano quelle né corrette né opportune. In realtà abbiamo dei documenti ma non abbiamo la possibilità di consultare quelle che sono delle informazioni essenziali che sono i capitoli e gli articoli. E pente a sellati hanno tenuto la posizione e hanno retto botta anche all'arrivo del presidente Luciano D'Alfonso che messa da parte la galanteria ha letteralmente sfilato la sedia alla consigliera Sara Marcozzi e strappato qualche cartello per poi accomodarsi in un'altra postazione in attesa degli eventi. In contemporanea Forza Italia in una conferenza stampa di fuoco ha elencato i numeri del fallimento di questa legislatura dal loro punto di vista e ha confermato che in aula sarà ostruzionismo puro e duro. Ma intanto il bilancio oggi con una nuova normativa non si conosce molto e quindi questa è una delle ragioni che ci hanno portato anche ad avere un atteggiamento duro. Tuttavia è duro perché la situazione dell'Abruzzo è dura, è difficile. Noi abbiamo un Abruzzo in controtendenza e gli ultimi dati ci dicono che siamo arrivati ad essere la penultima regione italiana. In realtà la maggioranza un'arma ce l'ha, la cosiddetta legge tagliola che consentirà per contingentare i tempi di ridurre a 5 per consigliere gli oltre 3.000 emendamenti che l'opposizione si appressa a portare in aula. Ma anche con la tagliola a conti fatti l'opposizione potrebbe attuare un ostruzionismo anche superiore alle 50 ore grazie ai 120 emendamenti possibili sulle tre leggi finanziarie. Ed è per questa ragione che il presidente del Consiglio Giuseppe Di Pancrazio invita al buonsenso. Difende la manovra di bilancio infine Maurizio Di Nicola del Centro Democratico e spiega che se non sono stati consegnati i dati di dettaglio della manovra è perché questo prevede la norma nazionale. L'opposizione se ne faccia una ragione. L'opposizione è una ragione. e non è un'opposizione per fare dal l'opposizione e non sono stati tutti i dati di bilancio che si non si facciamo una ragione. È finito che la ragione non si facciamo una ragione. La ragione della manovra è una ragione. La ragione della manovra è una ragione. La ragione del progetegrazione è una ragione. Mi per far. l'intera delizio, ma non è roma di contare l'interesse, ma non se vediamo, con un'altra domanda, che non mi ha servito di risparmettere, quindi, inllevendo un'esperienza, voglio gustare sempre se lo tracetano, anche se qualora, quando si può dare per me, se sei estetivato, non sono assolutamente un bel atteriore.